Massa di Imperia e il signor Rocicero di Brescia hanno confermato la decisione dell'arbitro e quindi Ibrahimovic ha spiazzato Cragno e dopo sei minuti il Milan è già in vantaggio, 1-0, non so se Maurizio Ruggeri volevi... No, vai pure, vai pure, ti ricordo naturalmente... Calabria lancio per Ibrahimovic che arriva in area di rigore, sinistro e la mette dentro, Ibrahimovic ma è fuori gioco, si alza al termine dell'azione la bandierina di Liberti sul lancio di Calabria, perfetto per Ibrahimovic, Ibrahimovic si era comunque mosto benissimo, al di là della posizione irregolare che sembra esserci, Ibrahimovic ha calciato con il sinistro, tra l'altro c'era stata anche una spinta da parte di Zappa, palla ingolatissima, imprendibile per Cragno, l'arbitro poi ha ricevuto la segnalazione di Liberti che da disposizione arbitrale ha tenuto la bandierina bassa fino alla termine dell'azione, c'è però un consulto VAR per vedere se l'azione di Ibrahimovic è regolare o no, in effetti Liberti l'ha alzata ad azione conclusa, quindi non ha inficiato sullo svolgimento dell'azione, vediamo che va a vedere, e dai la gol, e dai la gol, il raddoppio di Ibrahimovic che dunque era in posizione regolare, sempre allo stesso minuto, sesto nel primo tempo per il gol sul rigore, sesto della ripresa per il gran gol su azione, ancora una volta protagonista Calabria, suo il lancio, Ibrahimovic è scattato in linea, Grazie a tutti, grazie a tutti